Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ciao a tutti, benvenuti. Ma comunque abbiamo parecchie cose di cui parlare, quindi direi di iniziare immediatamente. È il 23 marzo del 1988 e ci troviamo per l'appunto a Policoro, che si trova sulla fertile pianura del Metaponto, a 3 km del mare Iogno, nella parte sud-occidentale, in provincia di Matera. È un centro urbano cresciuto velocemente, fino a diventare il principale della regione dopo i due capoluoghi di provincia. Più precisamente ci troviamo in una casa di Policoro, in Via Puglia, al Civico 75. Antonia Giannotti, la madre di Mari Rosa Andreotta, quella sera del 23 marzo si è concessa quella che si può definire una botta di vita. È andata ad un concerto di musica sacra a Matera insieme al suo gruppo parrocchiale. Ed era stato proprio Don Salvatore, il vecchio parroco di Policoro, a organizzare questo evento. È mezzanotte quando Antonia rientra a casa. Chiama sua figlia, ma non ottiene risposta. Così si gira verso il bagno e dalla porta socchiusa riesce ad intravedere due corpi senza vita. Sono di sua figlia, Mari Rosa, e del suo fidanzato, Luca Urioli. I due ragazzi giacciono senza vita all'interno del bagno. Luca Urioli, il fidanzato di Mari Rosa, è disteso supino al fianco della vasca. I suoi palmi sono rivolti verso l'alto e dalla sua bocca fuoriesce un fungo schiumoso. Mentre Mari Rosa è all'interno della vasca e ha una gamba che sporge di fuori. Per terra sono presenti alcuni vestiti dell'intimo dei ragazzi. Nella stanza vicina successivamente verranno trovati dei vestiti bagnati, ossia i jeans di Luca Fradici, una camicia e una t-shirt umide. La madre di Mari Rosa è sconvolta. Ha in braccio suo figlio di quattro anni, che ha portato con sé al concerto a Matera. Istintivamente lo porta in un'altra stanza e dopo aver cercato di soccorrere sua figlia facendo defluire l'acqua della vasca, chiama al telefono l'amica Laura Palmieri. Anche lei di ritorno dal concerto. L'amica quindi chiama a sua volta Don Salvatore, ossia il parroco di Policoro. Contemporaneamente Pino Orioli, ossia il padre di Luca, quella sera si è addormentato presto. Ha provato ad attendere il ritorno di Luca, ma il sonno ha preso il sopravvento. Pino non è preoccupato del ritardo di suo figlio, ha una grande fiducia in lui. E alla fine è un ragazzo a vent'anni e sarà in giro a festeggiare con i suoi vecchi compagni del liceo. Pino cerca di tranquillizzare sua moglie Olimpia, che invece rimane in piedi tutta la sera per aspettare Luca. A mezzanotte e 34 qualcuno suona il citofono e Olimpia sa che non può essere suo figlio Luca, perché ha le chiavi. La donna quindi si precipita alla porta, trovando sull'uscio Don Salvatore, il parroco di Policoro, che si preoccupa di darle la terribile notizia. Luca, ahimè, è morto. Giuseppe, il padre di Luca, viene svegliato dal grido lancinante di sua moglie Olimpia, che squarcia il silenzio della notte. In circa 15 minuti, grazie ad un giro di telefonate, quella casa di Via Puglia si riempie di persone. Il padre di Luca giunge sul posto dopo essere stato avvertito dal parroco, per l'appunto. Don Salvatore De Pizzo, che si preoccupa anche di allertare le forze dell'ordine, più o meno a luna di notte. Successivamente in ordine di tempo arriveranno il vice pretore Fernando Izzo, il fotografo Vito Orlando e la guardia giurata Felice Cirigliano. La scena del crimine che si prospetta agli occhi dei genitori, del parroco, degli amici di famiglia e del medico legale nel bagno di casa Andreotta è la scena ufficiale, quella depositata agli atti dai carabinieri del comando di Policoro quella sera. La porta del bagno è socchiusa e il cadavere della ragazza è accasciato nella vasca da bagno, mentre Luca è supino sul pavimento, ma ha dei segni di pericosse sul corpo. A terra è presente un caldo bagno, ossia una specie di stufetta della De Longhi, accesa e funzionante. Anche i termosifoni dell'impianto dell'abitazione sono accesi, così come la madre li aveva lasciati prima di uscire. La finestra è chiusa e la temperatura raggiunge i 30 gradi, quindi perché accendere quella stufetta, quel caldo bagno? Adesso però dobbiamo fermarci un attimo, perché questa cosa che vi sto per raccontare è davvero molto grave. Secondo alcune testimonianze, circa mezz'ora prima che la madre di Maria Rosa rincasasse e trovasse quindi due corpi in bagno, un gruppo di 5 o 6 persone si erano già intrattenute sulla scena del crimine. Tra questi ci sono tre carabinieri e il maresciallo di Montalbano Ionico. È presente anche un tale di nome Giovanni Pagano e un fotografo chiaramente convocato da questi ultimi. Non è del tutto certa la presenza del vice pretore Fernando Izzo. Il gruppetto di persone, non ci è dato sapere avvistati da chi, escono dall'abitazione appena qualche minuto prima che la madre di Maria Rosa rientra in casa. Per vent'anni circa questo retroscena gravissimo è rimasto nell'ombra, probabilmente perché i militari erano già stati avvisati da qualcuno che, direttamente o indirettamente, aveva avuto a che fare con il duplice assassino. Sta di fatto che ben cinque anni dopo qualcuno parla e lo fa senza troppi giri di parole, pur essendo a conoscenza dei rischi a cui sarebbe andato incontro. Salvatore Cerabona, il fotografo arrivato a casa Andreotta durante il primo sopralluogo, dirà queste esatte parole. Le foto che scattai io raffiguravano una scena molto diversa da quella depositata agli atti. Le prime persone che la madre di Maria Rosa ha avuto modo di allertare erano la vicina di casa, ossia un'amica di famiglia, che aveva poi a sua volta avvisato il parroco di Policoro, ossia Don Salvatore De Pizzo. Ebbene, quest'ultimo aveva avvisato i genitori di Luca della tragedia, per poi chiamare il comando dei carabinieri. E a questo punto i militari erano tornati ufficialmente sulla scena del delitto. Questo è un inquietante buco temporale sottovalutato e ignorato nel corso delle indagini. E a ragione di questa importante inadempienza, le foto di Salvatore Cerabona svaniscono nel nulla. Lo scenario che si prospetta davanti al fotografo, a quanto dice, è davvero sconcertante. L'uomo viene accompagnato dai carabinieri a bordo di un pulmino. E quando giungono davanti a casa di Maria Rosa, è già presente una volante. Per di più come se non bastasse un carabiniere apre la porta di casa con delle chiavi. Dove ha trovato queste chiavi? Perché era in possesso di queste chiavi? Non ci ha dato saperlo. Questo però ci porta a una conclusione. Gli insabbiamenti, in questo caso, cominciano proprio la notte dell'omicidio. E proseguono anche il giorno seguente. Quando vengono celebrati i funerali dei ragazzi. E quando il parroco Don Salvatore De Pizzo, si preoccupa di telefonare agli amici di Luca e Mari Rosa. per consigliare loro di distruggere tutti i biglietti o le lettere scritte dalla coppia. Domanda, perché il parroco chiede questo? Mari Rosa e Luca avevano dei segreti? Che tipo di segreti? Forse questi segreti li esprimevano tramite delle lettere? La scena del crimine che si prospetta davanti agli occhi di chi arriverà, a partire dalla madre di Mari Rosa, è dunque mutata. I due corpi sono stati spostati e Luca è disteso sul pavimento, nudo, di fianco alla vasca da bagno, con i palmi rivolti verso l'altro. Mentre in altri documenti si segnalano delle foto non fascicolate e tra l'altro di matrice tra loro differente, quindi scattate con diverse macchine fotografiche. Gli scatti di quello che viene definito super testimone, ossia Salvatore Cerabona, che per inciso vedono Luca, posto sopra due asciugamani in posizione diagonale, con le braccia incrociate sopra il ventre. Provano senza ombra di dubbio che la scena del crimine è stata modificata da qualcuno. Ad accompagnare queste fotografie tra l'altro non c'è nessun tipo di reazione ufficiale dalla magistratura. Il materiale quindi è stato depositato, ma non ufficialmente segnalato in alcun tipo di relazione descrittiva. Il mistero nel mistero in realtà nasce quando Salvatore Cerabona settimane più tardi l'aver dichiarato le incongruenze sugli spostamenti e sui modus operandi dei carabinieri quella notte, ritratta poi davanti al PM, ammettendo le sue insicurezze sugli orari precisi dell'entrata in casa insieme ai militari. Poi ci sono le chiavi in possesso della gente, motivata dal fatto che gliel'avesse consegnate la madre della povera Mari Rosa già rientrata a casa. Quindi direi che questa situazione rimane un enorme punto di domanda. Dove sta la verità? Non si sa. A questo punto partono le indagini, però poi vengono chiuse in tempo record, poi vengono riaperte, poi vengono richiuse, poi vengono riaperte, poi vengono richiuse. E le piste che seguiranno fondamentalmente sono quattro. Partiamo dalla prima. I due ragazzi sono stati fulminati da una scarica elettrica causata dal caldo bagno. Questa ipotesi viene data per certa, tanto che il PM della procura di Matera, ritenuta confermata l'accidentalità della morte, non dispone neanche le autopsie e autorizza il vice pretore del posto a celebrare il funerale dei giovani, che hanno luogo, come già vi ho detto precedentemente, il 24 marzo. Nel giro di pochissime ore il caso viene apparentemente archiviato, adducendo all'accidentalità la causa della morte. Il primo procedimento che si apre contro la De Longhi, ossia la ditta costruttrice del caldo bagno. Il 17 novembre del 1989 viene disposta una perizia dal giudice istruttore dell'epoca, ossia Michele Salvatore. Viene nominato per la consulenza all'ingegnere Sante Velecce. L'obiettivo è quello di verificare e accertare la causa della morte dei due ragazzi. Quest'ultimo lo individua nell'elettrocuzione. C'è però un problema, perché il perito giunge ad un'altra conclusione. Infatti accerta il buon funzionamento del caldo bagno, escludendo quindi la morte per folgorazione. Questa perizia in effetti sarà contestata dalle parti. Tanto da far aprire nell'ottobre del 1994 un procedimento per falsa perizia a carico di Sante Velecce, che poi successivamente verrà dichiarato estinto, perché in pratica il reato si era prescritto. La seconda ipotesi trova spiegazione in una scarica elettrica proveniente questa volta da un filo non isolato, che chiaramente ha colpito i due ragazzi mentre erano insieme in bagno. Ma come già vi ho detto, la scena del crimine è stata manipolata e dalle prime foto scattate quel filo non isolato era perfetto. In data 4 marzo 1995 arriva il professor Strada, che come consulente tecnico d'ufficio stabilisce che la morte dei due giovani è da attribuire all'avvelenamento da monossido di carbonio. Poi è uscito dallo scaldabagno al di sopra della vasca. Poi però arriva un'altra consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 16 giugno del 1997, dal professor Lattaruolo che torna a ribadire che la causa della morte è da attribuire ad una scossa accidentale di energia elettrica. L'ipotesi dell'avvelenamento da carbonio in effetti viene avvalorata dal professor Introna dalla presenza di carbossiemoglobina in stato gassoso rimasta imprigionata nel tessuto muscolare dei ragazzi. Pare in realtà che le quantità rivelate non siano particolarmente consistenti, anche se maggiori nei tessuti di Luca, che in teoria sarebbe stato il secondo a morire. La quarta ipotesi trova spiegazione in un duplice omicidio che però non riusciranno mai a provare. Ora facciamo un passettino indietro. Torniamo al 1991, quando i coniugi Orioli, ossia i genitori di Luca, presentano un esposto alla procura di Matera. E nel 1994 viene indagato Walter Mazziotta, un amico fraterno di Luca. Il ragazzo viene visto dalla testimone oculare Clementina Bottalico girare con la sua macchina, ossia una Fiat Panda scura nei pressi dell'abitazione, la sera in cui sono trovati i corpi senza vita dei due ragazzi. Il giovane non nega di essere passato da quelle parti, ma fin da subito si dichiara estraneo ai fatti. Arriviamo al 1996, quando la dottoressa Salinardi, ossia il medico legale intervenuto sulla scena del crimine, rende delle dichiarazioni ai carabinieri di Policoro, ammettendo di essersi limitata a scoprire i volti dei due giovani. Arriva il 27 gennaio del 1996, quando vengono riesumati i corpi e viene autorizzata l'autopsia, eseguita dal prof. Umani Ronchi. C'è però un problema. Il radiografo per fare le lastre è guasto, quindi non sono possibili altri accertamenti strumentali. Anche in questo caso si parla di morte per una scarica elettrica accidentale. Ma a questo punto parliamo bene di come sono stati trovati i corpi. Luca Urioli presenta i matomi alle parti basse, nel basso ventre, e ha un piccolo gonfio in una maniera sproporzionata. Lo soioide del ragazzo è fratturato, si potrebbe quindi ipotizzare una morte per strangolamento, che però viene liquidata dagli investigatori come un antefatto post-mortale. Sarebbe stato proprio il prof. Ronchi durante l'autopsia a rompere lo soioide di Luca. Mari Rosa presenta una ferita molto seria a forma di L sulla nuca, di carattere lacero contuso che sicuramente ne ha determinato il decesso. Quindi Mari Rosa sulla nuca ha un buco profondo 10 cm, provocato da un corpo contundente sconosciuto. Questa lesione però non è compatibile con gli oggetti presenti in bagno. Ma poi c'è un altro grande punto interrogativo. In quel bagno, nel bagno in cui vengono trovati i ragazzi, non ci sono tracce di sangue, quindi la domanda è Qualcuno ha pulito? In caso, quando è successo? Luca e Mari Rosa inoltre presentano macchie e puntini rossi in diverse zone del corpo di natura non ipostatica, e interpretabili come segni di violenza per azione di pressione, afferramento e trascinamento esercitata sui due corpi. E infine c'è un evidente fungo schiumoso dalle inequivocabili caratteristiche che lo rendono segno patognomonico di sicura interpretazione, ovvero l'annegamento. E infatti un'ulteriore ipotesi d'indagine è proprio quella dell'annegamento. In un parere redatto dal criminologo Francesco Bruno, in data 18 marzo 1997, ossia l'ultima in ordine di tempo, si legge che una falsa ma apparente plausibile interpretazione dei fatti ha preso il posto della verità, fino a nascondere l'evidenza, fuorviando anche il giudizio di quattro diverse consulenze tecniche. Dobbiamo riconoscere che i corpi dei due ragazzi quella notte presentavano entrambi delle lesioni violente, nonché delle macchie e dei puntini di colore rossastro sparsi in varie zone del corpo, di natura non ipostatica data la posizione, interpretabili quindi come segni di violenza per azione di pressione, di afferramento, di trascinamento, esercitata sui corpi e infine un evidente fungo schiumoso che lo rendevano un segno d'annegamento. Dunque i giovani sarebbero morti per annegamento. Il criminologo Francesco Bruno non ha dubbi. Mary Rose e Luca sono stati uccisi da qualcuno che, dopo aver usato su di loro violenza per metterli in condizione di non reagire, le ha annegate in tempi successivi, sempre nella vasca da bagno. La causa della morte è chiarissima ed obiettiva, ed è l'annegamento per sommersione. L'omicidio è avvenuto con grande probabilità per un movente passionale, a seguito di un comportamento impulsivo tipo raptus, scatenato da un rifiuto, dall'invidia, dalla gelosia, dall'odio e dalla necessità di non lasciare testimoni, oltre che di punire un odiato rivale. L'assassino, aggiunge il criminologo Francesco Bruno, è da ricercarsi nel gruppo di persone, noti o ignote, che la sera del delitto si sono ritrovati a casa di Mary Rosa Andreotta. Arriviamo al 20 aprile del 1998, quando il giudice archivia il caso a carico di Walter Mazziotta, ritenendo che l'imputazione è sicuramente inammissibile, e parimenti inammissibili per astrattezza e irrilevanza sono le indagini suppletive indicate dall'opponente, tutti a carico dell'indagato, che può ritenersi estraneo ai fatti. C'è un però. La madre di Luca, Olimpia, non ha mai creduto alla fatalità, non crede che suo figlio Luca sia morto per un incidente. E infatti nel 2007 la donna dice Nella storia di Luca e Mary Rosa non c'è stata la volontà di arrivare alla verità. La procura deve dare risposte a molte domande e spiegare ad esempio perché la sera del ritrovamento sono state cancellate le tracce di sangue dal bagno. Su un documento della procura c'è scritto che lo stato dei luoghi è stato modificato e i corpi manipolati. Interrogata sulla causa della morte dei giovani, la donna dice Sono stati ammazzati e basterebbe la frattura dell'osso ioide riscontrata sul cadavere di Luca a dimostrare la morte per strangolamento. Il giallo di Policoro è poi tornato alla ribalta della cronaca nel 2008 con Toghe Lucane. L'inchiesta dell'ex PM di Catanzaro, Luigi De Magistris su un presunto comitato d'affari in Basilicata tra magistrati, politici e imprenditori. Nei faldoni di De Magistris effettivamente si ipotizzava ad un duplice omicidio. Quindi la signora Olimpia, ossia la madre di Luca, ha chiesto nuovamente la riesumazione. Disposta dal PM di Matera, Rosanna De Fraia. Nel settembre 2010 la nuova autopsia viene eseguita nel cimitero di Policoro. Nel corso dell'autopsia sul corpo di Luca Urioli non sono stati rinvenuti l'osso ioide e alcuni organi interni. Viene meno dunque la prova regina sulla quale le nuove perizie e analisi avrebbero puntato l'attenzione per stabilire finalmente le reali motivazioni del decesso. Arriviamo a giugno del 2011 quando il professor Franco Introna, che per inciso è il medico legale del caso di Elisa Clapsa Potenza, la sua perizia parla nuovamente di monossido di carbonio. L'anatomopatologo ricostruisce i fatti, fa delle puntualizzazioni sul caso evidenziando alcune riserve e cautele, spiega la modalità con la quale viene cercato il monossido di carbonio, il gas che avrebbe ucciso Luca e indotto in Mari Rosa, un malessere tale da determinare la caduta della ragazza, durante la quale si sarebbe verificato l'urto nucale contro la manopola del rubinetto, fino all'annegamento avvenuto nella vasca. Luca, stando alla perizia, avrebbe tentato di soccorrere la fidanzata, ma era astenico, anche lui aveva inalato il gas. Aveva provato ad afferrare Mari Rosa per una gamba, ma era sopraggiunto il coma. Quindi si era accasciato a terra ed era rimasto lì fino alla morte. La madre di Mari Rosa, quando rientra a casa, trova il riscaldamento centralizzato in funzione. Circostanza che, a quanto pare, meraviglia la donna, in quanto Mari Rosa, appena rincasata, avrebbe dovuto spegnerlo. Nel corridoio vede il riflesso della luce proveniente dal bagno. Sente distintamente il rumore del caldo bagno in funzione. Così apre la porta e vede il corpo della figlia nella vasca, totalmente sommersa, istintivamente quindi, aziona la manopola per il deflusso dell'acqua della vasca. In altri documenti processuali, la porta del bagno parrebbe essere stata descritta come socchiusa. La temperatura ambientale in casa è elevata al momento dell'arrivo di Luca e Mari Rosa, perché l'impianto autonomo di riscaldamento, posto in manuale, è in funzione. L'impianto autonomo di riscaldamento presenta caldaia e bruciatore in un vano tecnico esterno alla casa. La temperatura del bagno al momento del rinvenimento delle salme è elevata, stimata sui 30 gradi. Al momento del rinvenimento delle salme, inoltre, viene notato in bagno un termosifone in attività, connesso con l'impianto centralizzato della casa, ed un termoventilatore elettrico, ossia un caldo bagno, in funzione con l'interruttore del termostato impostato su manuale, fissata su un valore medio. L'impianto elettrico è funzionante, non c'è stato alcun cortocircuito. Le indagini successive, infatti, evidenziano una perfetta funzionalità dell'impianto elettrico del caldo bagno, che non mostra alcuna potenzialità di dispersione elettrica, anche in seguito a test davvero esasperati. Anche gli accertamenti sull'impianto elettrico non mostrano alcun problema. Tuttavia, l'impianto del riscaldamento dell'acqua non è a norma. Per l'assenza del vano, dove è locata la caldaia, nessuna perizia tecnica viene disposta sullo stato e sul funzionamento della caldaia a gas. Presente in bagno per il riscaldamento dell'acqua, nell'immediatezza degli avvenimenti, la giacca di Luca è appesa su una sedia in cucina. Non sono mai stati trovati i vestiti di Mari Rosa, indossati all'arrivo a casa. Inoltre, il fungo muscoso rinvenuto sulle salme può essere considerato un segno fortemente indicativo per un annegamento. Nell'intossicazione di monossido di carbonio, il fungo schiumoso è di raro riscontro e, dove presente, è connesso con l'edema polmonare in parte dovuto anche all'azione tossica del monossido di carbonio sugli alveoli polmonari. Nell'intossicazione mortale da monossido di carbonio, il lasso di tempo intercorrente tra l'esposizione del gas e la perdita di conoscenza dipende dalla concentrazione di monossido nell'aria inalata. In presenza di una caldaia gas contraddistinta da un malfunzionamento ipotizzato lieve, sarebbero stati sufficienti 50 minuti di esposizione continuativa per indurre una sintomatologia significativa nei due giovani in assenza di particolare attività fisica. Tutto ciò supponendo che la porta del bagno fosse chiusa o socchiusa. Da queste premesse in trona scrive Luca e Mari Rosa si recano insieme a casa Andreotta quindi a casa di Mari Rosa e decidono di fare la doccia insieme. La casa è già calda ma Mari Rosa non spegne il riscaldamento verosimilmente per creare una condizione confortevole anche dopo il bagno. Luca inizia a spogliarsi in cucina e sposta il caldo bagno nel bagno dove lo accende a media potenza in posizione manuale. Verosimilmente viene aperto il rubinetto dell'acqua calda e chiusa la porta per favorire all'interno del bagno un piacevole ambiente caldo umido. Mari Rosa verosimilmente si spoglia in camera sua ed entra in bagno con il pigiama a mo' di tuta. Entrambi i ragazzi chiudono o socchiudono la porta e iniziano a spogliarsi del tutto mentre la vasca si sta riempendo. Mari Rosa entra nella vasca piena di acqua calda e mentre sta in piedi apre il doccino per lavarsi. La caldaia continua ad essere in attività. Luca non entra nella vasca e dopo essersi spogliato aiuta Mari Rosa. Non è dato sapere né quanto tempo i due ragazzi trascorrono nel bagno con la caldaia in attività né cosa fanno nel tempo. Certo è che abbondanti schizzi d'acqua finiscono sul pavimento del bagno mentre la vasca continua a riempirsi. Non ci è dato sapere quando la caldaia smette di funzionare per la chiusura del rubinetto dell'acqua calda. Sicuramente Mari Rosa inizia a sentirsi male verosimilmente con la doccia ancora in funzione. Perde conoscenza e cade nella vasca verosimilmente dando le spalle al muro su cui è locata la caldaia. In fase di caduta impatta il capo contro la manopola del rubinetto procurandosi la ferita lacera a livello occipitale. Luca cerca di aiutarla chiude il rubinetto dell'acqua e cerca di estrarla dalla vasca tirandola per la gamba a destra mentre altra acqua cade sul pavimento ma Luca è astenico fiacco a causa del monossido di carbonio inalato quindi si accascia al suolo dove in coma continua ad inalare monossido di carbonio fino alla morte mentre Mari Rosa muore annegata nella vasca da bagno. A questo punto i corpi senza vita di Luca e Mari Rosa presentano strutture muscolari ancora riconoscibili sebbene mumificate. Per questo il sistema di indagine scelto da Introna è stato quello di cercare il monossido di carbonio legato alla mioglobina mediante metodi di microdiffusione e fissazione. Nella salma di Luca in effetti viene trovato il monossido di carbonio in misura media di 0,702 per 100 grammi di tessuto muscolare testato. Quanto basta quindi per supporre che anche Mari Rosa abbia inalato il monossido di carbonio prima di morire. C'è da dire che le indagini dopo 22 anni sono gravemente compromesse. C'è poco da fare e per quel poco che si può fare ci si affida alla tecnologia. La relazione investigativa aggiunge in procura a un anno di distanza e questo è il risultato. La formulazione delle ipotesi sulla ricostruzione della dinamica degli eventi è stata resa particolarmente complessa dall'esistenza di anomalie che hanno caratterizzato la fase iniziale delle indagini. Secondo la polizia scientifica la scena del crimine è stata davvero alterata. Infatti lo studio della documentazione e l'analisi delle immagini sulla scena del crimine non consentono di acquisire elementi di sostegno circa la possibile le tesi di omicidio. Per questo concludono che i due giovani siano morti a seguito di uno shock da elettrocuzione oppure a seguito di un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. La prima ipotesi non riescono ad escluderla la seconda però la ritengono caratterizzata da maggior riscontro oggettivi. Le nuove indagini non forniscono elementi di novità ed è per questo che nel 2011 il PM chiede l'archiviazione. Non è possibile dopo 22 anni formulare una ricostruzione certa della dinamica degli eventi. Il magistrato infatti ritiene più verosimile la versione secondo cui Luca e Mari Rosa siano morti accidentalmente per avvelenamento. Passiamo a questo punto ai punti oscuri che sono parecchi in questo giallo. 1. La stanza da bagno è di piccole dimensioni quindi non ha permesso di rilevare segni di collutazione. Infatti non c'è traccia di alcuna reazione istintiva e violenta delle vittime e dell'aggressore. A questo punto se seguiamo la tesi del duplice omicidio è possibile che i due ragazzi non siano morti in bagno. Dunque la vera scena del crimine potrebbe non essere mai stata individuata e ci sono in effetti diversi particolari che portano verso questa direzione ossia quella del duplice omicidio. La lesione i genitori di Luca la posizione in cui viene trovato la presenza di macchie rosse sul corpo di entrambi la presenza di un fungo schiumoso che furiesce dalla bocca di Luca e Mari Rosa la frattura dell'osso ioide di Luca. Sappiate che per ognuno di questi particolari ci sono delle versioni totalmente contrastanti. La mamma di Mari Rosa nel 1995 dichiara quella sera notai che i genitori di Luca al momento completamente scoperti si presentavano di dimensioni fuori dal normale come se fossero gonfi. Poi nel 1997 ribadisce non posso dire se Luca avesse delle tumefazioni ai genitali ricordo tuttavia di aver notato che le dimensioni degli stessi mi sembravano fuori dalla norma. Laura Paltrineri una testimone invece dichiara i genitali erano già coperti quindi non ho potuto vedere niente. Nelle immagini del sopralluogo il corpo di Luca è in posizione leggermente obliqua rispetto alla vasca da bagno mentre alcune testimonianze lo descrivono in posizione parallela alla vasca. Il papà di Luca nel 1994 dichiara di aver notato nella posizione delle braccia una postura riconducibile al trascinamento. Le macchie rossastre in varie aree del corpo di Luca e Mari Rosa potrebbe essere il segno della pressione esercitata da chi ha afferrato e trascinato i corpi. Le notano i carabinieri ma non il medico legale che effettua l'ispezione cadaverica. Saranno poi le persone che hanno visto i cadaveri a confermare che in effetti quelle macchie c'erano. Passiamo ora al fungo schiumoso sulla bocca dei ragazzi le cui dichiarazioni sono fortemente contrastanti. Chiarangelo Troiano un testimone che era presente in casa di Mari Rosa quella sera dice constatavo inoltre che il ragazzo così come Mari Rosa aveva bava alla bocca. Ivo Paltrignieri un altro testimone invece dice non c'era nessun fungo schiumoso sulla bocca dei ragazzi. Passiamo ora alle lesioni l'unica lesione accertata sui corpi è quella presente sulla nuca di Mari Rosa e non è compatibile con gli oggetti presenti in bagno. Nel verbale del medico legale si legge il corpo era insanguinato tanto che risalì all'origine della fuoriuscita del sangue riscontrando una profonda lacerazione alla nuca. Passiamo ora alla frattura all'osso ioide di Luca che porterebbe ad ipotizzare una morte per strangolamento viene liquidato dagli investigatori come un antefatto post mortale ovvero l'osso si sarebbe rotto dopo la morte di Luca. Per la mamma di Luca invece suo figlio aveva l'osso ioide spezzato fin dalla prima autopsia. Passiamo ora al sangue perché la presenza di sangue nella vasca da bagno è un ennesimo elemento che ha diviso i testimoni. La mamma di Mari Rosa dichiara l'acqua che stagnava nella vasca e nella quale era immersa mia figlia mi è sembrata pulita e non sporca di sangue. Gian Battista La Grotta un altro testimone invece sostiene ricordo che nella vasca da bagno vi era dell'acqua sporca di sangue che comunque non copriva il corpo della ragazza. Domanda sono state tutte queste contraddizioni a spingere la procura di materia a tornare all'ipotesi più facile ossia altro punto a mio avviso problematico manca l'assassino manca il movente manca l'arma del delitto dovete sapere che i medici legali fanno risalire la morte dei due ragazzi intorno alle 22 della sera del 23 marzo 1988 un testimone di nome Bottalico Clemente afferma di aver visto verso le ore 20 e 30 la luce accesa al piano terra della casa un altro testimone conferma che la luce era accesa tra le 22 e 30 e le 22 e 45 la mamma di Mari Rosa quando torna a casa per mezzanotte trova le luci spente ma soprattutto la porta d'ingresso non è chiusa a chiave i carabinieri vengono avvisati dal parroco di Policoro del ritrovamento dei due corpi all'una di notte circa così come da verbale dei carabinieri nella relazione autoptica invece si legge di un verbale di constatazione decesso nel bagno dell'abitazione a mezzanotte e mezzo il comportamento del magistrato che ha condotto le prime indagini amico sia della famiglia Orioli che di quella Andreotta secondo i carabinieri non è lineare infatti sarebbe stato proprio lui a chiedere al medico che aveva il compito di ispezionare i cadaveri di effettuare un'ispezione celere un'altra figura enigmatica a mio avviso è il prete che è tra i primi a giungere a casa Andreotta ossia a casa di Mari Rosa è molto vicino alla famiglia di Mari Rosa ed è molto vicino anche alla famiglia di Luca Luca infatti si era legato al gruppo dei giovani della parrocchia prima di trasferirsi a Milano per frequentare l'università cattolica del Sacro Cuore la madre di Luca Olimpia dice aveva già superato 13 esami voleva diventare un avvocato mio figlio credeva nella giustizia la donna stringe tra le mani un vecchio libretto d'esami ma non solo infatti c'è una lettera che Mari Rosa ha scritto a Luca che recita questo non è uno dei periodi più belli della mia vita perché ho dei problemi un po' gravi e non so proprio come andrà a finire spero che resterai accanto a me anche quando ti confesserò una piccola parte di me che voglio cancellare per sempre vedi potrei nasconderti benissimo tutto ma ho piena fiducia in te e voglio che tu sappia tutto di me lettere sincere quelle di Mari Rosa così tanto sincere che il parroco Don Salvatore De Pizzo poche ore dopo i funerali chiedi agli amici stretti di Luca e di Mari Rosa di distruggere tutta la corrispondenza dei ragazzi in loro possesso perché il parroco alla fine dice di aver chiarito il tutto con i magistrati di Matera non ho mai voluto depistare né distruggere materiale utile alle indagini dice ma quindi cosa nascondeva Mari Rosa quale segreto voleva confidare a Luca chi aveva interesse nell'uccidere Luca e Mari Rosa nessuna risposta è mai arrivata dalle tre inchieste aperte e poi archiviate ci sono solo contraddizioni un'ennesima contraddizione è lo stesso ruolo dell'avvocato Nicola Buccico prima legale della famiglia Orioli poi difensore del PM di Matera Vincenzo Autera denunciato dai genitori di Luca Orioli per come aveva condotto le indagini a partire dalla mancata autopsia questo procedimento però viene archiviato dal GIP di Palermo Enrico Dauria altre indagini vengono aperte e poi archiviate anche a Matera e infine a Policoro nessuno parla tutti sembrano aver dimenticato la verità è che sono probabilmente spaventati dalla raffica di denunce e querele che accompagnano l'inchiesta sul dublice delitto in una telefonata intercettata dai carabinieri una zia e suo nipote la donna dice non troveranno mai niente perché secondo me e te lo dico come una mamma il nipote la interrompe e le dice a parte il fatto che io non credo che sia stato un omicidio lei riprende no no senti io credo che c'era qualcuno in casa e che purtroppo è successo quello che è successo e Luca innocente ha dovuto subire secondo me c'è di mezzo qualcuno di mafioso scusa ma Claudio Lovecchio l'hai mai sentito? ebbene Claudio Lovecchio è stato ucciso è uno dei tanti casi di Lupara Bianca insomma è stato un omicidio di mafia ma che cosa ha a che fare costui con i fidanzatini di Policoro? infine nel 2008 arrivano nuove rivelazioni che gettano una nuova luce sul caso Salvatore Scarcia uno dei più noti boss del metapontino afferma di aver visto una domenica mattina durante un meeting in cui si incontrano magistrati locali imprenditori è un colonnello dei carabinieri in questo caso sono presenti anche Walter Mazziotta e Vincenzo Autera sono seduti ad un tavolo a parlare il primo era già stato indagato ed era amico di Luca il secondo era il PM che avrebbe dovuto indagare sul caso però in realtà non ha indagato proprio niente la signora Olimpia sa in cuor suo che Luca non l'è stato strappato via accidentalmente sa che in molti sanno la verità ma tacciano sa che dietro ci sono menzogne ed interessi ad archiviare il caso sa che l'ha tanto implorata verità è molto scomoda e confide in un esame di coscienza di chissà ma non dice di chi ha fatto e negato di chi pur non facendo ha lasciato che facessero la domanda è una madre fin dove può sopportare un dolore simile la verità qua è una ciò che non spezza fortifica ed è stata forse la ricerca della verità e della giustizia il motore della sopravvivenza di Olimpia Olimpia Orioli io la considero una madre guerriera ma dolce e affettuosa nello stesso tempo è l'esempio del coraggio di non arrendersi mai perché la verità è un diritto costituzionale che non può e non deve essere immolato davanti ad una prescrizione o davanti ad accertamenti che non concludono un caso e che lasciano il dubbio di una mancata certezza del diritto detto questo ragazzi questo era il caso dei fidanzatini di Policoro chiaramente per quanto mi riguarda è un caso risolto anche se per molti è risolto cioè per molti Mari Rosa e Luca sono morti per un incidente per molti altri invece c'è di mezzo qualcun altro c'è di mezzo un duplice delitto il problema è che qui non sono state fatte indagini ma zero proprio niente assolutamente niente e il medico legale l'ha detto tra l'altro ha fatto la prima ispezione cadagerica guardando in faccia il povero Luca e la povera Mari Rosa ah e questo è il modo di fare le ispezioni cadaveriche non so che intrallazzi ci possano essere sotto ma io la puzza di intrallazzi la sento ovviamente questo caso è lungo perché ha inizio nell'88 e viene portato avanti per molto molto tempo anche se non viene mai risolto ahimè quindi se magari mi sono dimenticata di dire qualcosa di importante potete tranquillamente dirlo voi nei commenti spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse noi ci vediamo prestissimo al prossimo video io nel frattempo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi mangiate sempre le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendevi cura di voi e fate ciò che vi rende felice basta che non fate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.